Ho provato a ricordare tutte le persone ma sono talmente tante, ricordo per esempio Ilaria Paterno, ricordo Tommaso Lazzari, Pina Miselli, ricordo Antonio Varricchione e tanti altri, potrei continuare all'infinito. Quello che vedete nelle immagini è il luogo dove è avvenuto l'ultimo incidente grave. Siamo sulla provinciale che da Dragoni porta a Piedimonte Matese, la strada più pericolosa dell'Alto Casertano sulla quale è necessario un immediato intervento delle istituzioni per trovare una soluzione alla lunga scia di sanque al fine di evitare altri numerosi incidenti che sono spesso mortali. Ognuno per le proprie competenze, le istituzioni hanno il dovere di intervenire e presso. Siamo in compagnia del vice sindaco di Piedimonte Matese, Bernarda De Girolamo. Allora, cosa si può fare dal punto di vista istituzionale per la sicurezza di questa strada ma soprattutto a breve termine? Allora, io intanto tengo a precisare che la strada non è di competenza comunale ma di competenza provinciale e dopo l'ultimo episodio che è successo su questa strada ci siamo attivati, il sindaco si è attivato affinché la provincia potesse mettere in atto tutte le strategie per migliorare la viabilità su questa strada. Intanto mi sento di anticipare che il presidente della provincia ha già messo in atto strategie che possano in qualche modo rallentare la corsa degli automobilisti perché spesso si corre, si corre troppo velocemente posizionando dei rilevatori di velocità e soprattutto mettendo a mio avviso, è opportuno mettere anche delle barriere semaforiche. Ma ormai non si può più aspettare, sono davvero troppe le vittime di questa importante arteria che sotto l'aspetto turistico rappresenta la vera porta del Matese. Bisogna fare presto. Certamente, sin da domani assolutamente dobbiamo fare qualcosa in più e voglio solo precisare che ci siamo tanto battuti l'anno scorso per far installare questi segnali luminosi che sono in prossimità della rotonda e ci è voluto per avere questi segnali, quindi io spero che insieme agli altri sindaci, in primis quello di Piedimonte Matese ma anche altri comuni viciniori, insieme possiamo fare qualcosa in più effettivamente. L'anno scorso facemmo questa petizione, ottenemmo i segnali ma evidentemente non bastano, ci vuole qualcosa di più forte, quindi assolutamente sì, dobbiamo muoverci e anche in fretta, già da domani mattina. Sul caso era intervenuto anche un comitato, finora senza esito. Cosa chiedete come comitato? Ci risulta che in passato si sia stata una raccolta firme e poi cosa è successo? È successo che abbiamo raccolto le firme e le abbiamo mandate al prefetto e ai due comuni, però non abbiamo avuto risposte, solo dalla provincia. Qual è la vostra soluzione e soprattutto cosa chiedete? Come comitato noi abbiamo scritto agli organi competenti, prefetto, presidente della provincia e due sindaci di Piedimonte e Alife. Noi personalmente ho scritto la lettera dopo la raccolta firme e abbiamo chiesto per mettere in sicurezza questa SP331 dove si verificano sempre incidenti gravi, gravissimi. L'ultimo incidente mortale risale a dicembre 2020, mentre proprio una settimana scorsa è successo un altro incidente abbastanza grave. Noi abbiamo chiesto o i sistemi di autovelox, oppure semafori, oppure le rotatorie, anche se hanno un costo più elevato rispetto alle altre misure, oppure le bande sonore con sistema di vibrazione. Io credo che con questi sistemi qualcosa possa migliorare, perché si deve migliorare. Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini e per i cittadini io credo che non ci siano colori politici. Posso dire che solo un parlamentare lo scorso anno ha preso un po' a cuore questa situazione, ha scritto agli organi competenti e la provincia ha risposto a luglio 2021 dicendo che la competenza per gli autovelox è del prefetto e dei due sindaci. Non è possibile continuare a contare le vittime per aspettare finanziamenti o ascoltare appelli disperati come questi da parte di comuni cittadini. Lei è coinvolta personalmente per suo padre. Incidente è avvenuto qualche settimana fa proprio qui davanti a questo esercizio commerciale. Allora intanto come sta suo padre e cosa chiedete? Mio padre è ancora in ospedale e i medici stanno facendo tutto il possibile e quindi sta lottando e anche noi insieme a lui. Però diciamo che il mio intervento, se così possiamo chiamarlo, la mia lettera è nata non solo per mio padre ma per tutte le vittime che abbiamo avuto su questa strada. ho provato a ricordare tutte le persone ma sono talmente tante. Ricordo per esempio Ilaria Paterno, ricordo Tommaso Lazzari, Pina Miselli, ricordo Antonio Varricchione e tanti altri. Potrei continuare all'infinito e purtroppo se le autorità non faranno nulla come finora purtroppo è palese che non è stato fatto per un motivo o per un altro, penso che questa lista si allungherà di molto. E quale è la soluzione? Cosa si potrebbe fare secondo lei al di là del limite di velocità che ovviamente già esiste? Allora il limite di velocità su questa strada abbiamo per un tratto il 50, subito dopo il 70. e ovviamente può essere facile andare oltre questi limiti perché è un limite che porta la macchina ad andare molto piano. Però possiamo capire un 10 km in più che può capitare, ma qui parliamo di alte velocità, il doppio oltre il limite. Quindi sicuramente forse non potranno essere emessi dei dissuasori, però sicuramente un controllo con telecamere, questo sarà sicuramente un modo per evitare determinate cose e possiamo già vedere come si corre su questa strada. Anzi, diciamo che a quest'ora del giorno non raggiungono le velocità che si hanno di notte, che maggiormente qui si vive una situazione tipo Fast and Furious, anche durante il fine settimana, addirittura si hanno situazioni di macchine che fanno corse su due corsie, diciamo che è una situazione abbastanza grave. Su queste strade camminano tutti, camminano giovani, camminano adulti e soprattutto adesso che nelle nostre zone diciamo stanno dilagando queste, chiamiamole macchinine per i ragazzi che possono guidarli già dai 16 anni senza avere la patente piena, che sono totalmente giocattoli. Quindi immagina un ragazzo coinvolto in un incidente del genere, diciamo sicuramente una morte assicurata. Come altri ragazzi che hanno perso la vita qui, che magari avevano come veicolo un motorino o una motocicletta. Quindi sicuramente una telecamera potrà inibire un po' queste persone che corrono. Mettendo delle pene pecuniari sicuramente, magari anche dei semafori, questo pure potrebbe aiutare. Fatto sta che essendo una strada provinciale poi entra in gioco la difficoltà su di chi è la competenza. Diciamo che si può capire, è comprensibile che ci sia una situazione di competenza. Però sinceramente le persone che sono morte qui sono gli elettori dei nostri sindaci, dei nostri governanti. Quindi in questa storia io penso che hanno un po' tutti una responsabilità. A partire dai comuni, dai sindaci dei vari comuni, quindi Alife, Piedimonte. Mi verrebbe da dire anche Dragoni, Baia Latina, perché è una strada che percorriamo tutti. Il presidente della provincia sicuramente per competenza. Per quanto riguarda la sicurezza della strada, io penso che anche il prefetto debba mettere bocca o azione, perché forse è la persona più in alto e che è deputata alla sicurezza delle nostre strade.